Ciao a tutti da Parafranza e benvenuti in questo video! Oggi faremo l'unboxing di qualcosa che mi è arrivato dalla Cina. Dovrebbe essere un coltellino, ma non ne sono sicuro. Con questo video inizierò una nuova serie che si chiamerà Cinesone Unboxing o qualcosa di simile. Perfetto, andiamo ad aprire la confezione. Ecco qua. Ecco qualcosa di piccolo. Scatola in cartone. Perfetto, andiamo ad aprire la scatolina e vediamo il prodotto in questione. Ecco qua. Che carino. Abbiamo una chiave nera. Abbastanza pesante. Non sembrerebbe un ciucciotto, poi dipende dalla lama soprattutto. La verniciatura è buona. Quindi questo coltello a forma di chiave sembra molto interessante. Buono sguardo alla lama. Già vedo qualche piccolo segno. Ma per 43 centesimi non ci si può aspettare molto. L'importante è che comunque un minimo tagli. Perfetto. Lo richiudiamo e andiamo a vedere come chiamano questo prodotto su AliExpress. Aspettatevi di tutto, vi avviso. Su AliExpress questo prodotto è indicato come Jeannite, non so come si pronunci. La sita è Jeannite come notte. Jeann... Su AliExpress versione Android sull'applicazione, ovviamente se c'è anche per iOS, non ne ho idea, avrete un ulteriore sconto del 3% in questo caso. Benissimo, ve lo faccio rivedere un'altra volta. Intanto vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Di seguirmi sulla pagina di Facebook e anche di Instagram. Vi metto tutti i link in descrizione. Per questo video è tutto. Da Parafranza ci vediamo al prossimo video di prova di questo fantastico coltellino. Sarà una delusione? Molto probabile. No dai, speriamo di no. Alla prossima!